Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sto ancora cercando una postazione decente per filmare e per non tenere il microfono in mano, però accontentatevi se volete un buon suono. Allora, è un sacco di tempo che non ci vediamo, due mesetti, dai non è andata così male questa volta, e ho un po' di novità, oggi finalmente parliamo di nuovo del Canada e parliamo in particolare della cittadinanza, perché sono diventata finalmente cittadina! Wuhuu! Sì, dopo otto lunghissimi anni sono finalmente cittadina canadese, è andata meglio che quella italiana che ci ho messo 15 anni! Sto ciò, ci sono delle novità in casa Doina, prima di tutto sono jobless, ho lasciato il mio lavoro perché sì, avevo bisogno di una pausa, sono successe tantissime cose in quest'ultimo anno e mezzo e ho veramente bisogno di una pausa. Prenderò questo mese di agosto off e ritornerò a settembre carica con alcune novità che vedrete un po' più tardi, l'ho detto a pochissime persone, quindi sì, eccomi! Quindi non so, non posso dirvi se da settembre avrò più tempo perché probabilmente non sarà così, però cercherò di approfittare un po' di agosto per filmare più video, ma io dico sempre, mi trovate sempre attiva su Instagram perché su Instagram sono veramente sempre molto attiva, quindi se mi volete tanto bene trovate il link qui in descrizione. Detto ciò, passiamo un po' a come è andato questo processo di cittadinanza canadese. Io avevo tra i miei video da fare, insomma nella mia lista, un video sulla residenza permanente, che è un po' il green card, il permesso di soggiorno, ci siamo capiti, no? Che io ho ottenuto nel 2020, quindi capitemi che io quel video non l'ho mai più fatto e sono già diventata cittadina. Quindi parleremo anche di quello, ma vi dirò un po' tutto il processo. Per chi non mi conoscesse, per chi mi vedesse per la prima volta, perché magari sta cercando cose sul Canada, eccetera, buongiorno, io sono Doina, vivo in Canada da ben otto anni, troppi anni! E sono diventata finalmente cittadina, adesso vi spiegherò passo per passo un po' quello che è stato il mio percorso. Io sono arrivata in Canada come studente, nel 2016 ho fatto la mia magistrale, la prima magistrale a Sherbrooke, è andata benissimo, è stata un'università pazzesca, l'ho amata tantissimo. Finita l'università ho ottenuto il visto di, dopo gli studi, si chiama tipo post studies, bla bla bla. Adesso mi sa che ci sono delle cose che sono cambiate, quindi vi dico io non sono molto aggiornata, perché appunto sono già diventata cittadina, quindi non sono informata sui cambiamenti per quanto riguarda la burocrazia, ma la burocrazia canadese è un po' quella che è, è molto complicata, è molto costosa, ha una rottura dei cazzi, però meno rottura dei cazzi di quella italiana, si è chiaro. Quindi sono arrivata come studente, ho avuto il mio permesso di lavoro, che era della stessa durata dei miei studi, quindi me l'hanno dato per due anni. E nel frattempo, quando io ho ottenuto il permesso di lavoro, mi sono messa già subito a fare il processo per la residenza permanente. Che era un processo molto lungo, servivano tantissimi documenti, servivano tantissimi soldi oltretutto, e io l'ho ottenuto in troppi anni, nel senso che ci hanno messo due anni e mezzo per darmi questa permanent card, che solitamente non dovrebbero metterci così tanto, e vi dico era prima della pandemia, quindi non si può neanche scusare con la pandemia, dicendo eh vabbè ok. Quindi sono diventata residente permanente finalmente nel 2020. Quando sono diventata residente permanente, è lì che ho detto ecco, adesso potrei tornare sulla questione dottorato, perché posso tornare all'università pagando come i canadesi, e non pagare miliardi come i studenti internazionali. Dopo di ciò, tu per diventare cittadino, devi farti due anni di residenza permanente, e un anno te lo contano da quando eri studente, lavoratore, quel che è. Io ho fatto il processo dei skilled worker, si può fare anche la sponsorship, dove tu magari sposi un canadese e puoi avere lo sponsorship, bla bla bla, io non l'ho fatto per il semplice fatto che io e lui non eravamo ancora sposati, quando ho iniziato tutto il processo di residenza permanente, e non ho sposato lui per questo. Quindi in realtà ho fatto la strong independent woman, quindi nel senso, io avevo bisogno di farlo il prima possibile, quindi non avevo sbatti di aspettare di sposarci, no, non avevo tempo per queste cose, quindi ho fatto quello del skilled worker, che forse è anche per questo che ci hanno messo un po' di più, perché ci cagano di meno, non lo so. E insomma nel 2022, a ottobre, ho mandato la mia domanda, sì, ottobre e novembre era, perché erano finalmente due anni di residenza permanente, però c'è il trick, c'è il trick ovvero che quando tu diventi residenza permanente, ogni volta che tu esci dal paese, quei giorni in cui tu sei uscita non contano. Però ho scoperto una cosa divertentissima ormai quando sono diventata cittadina, che se tu esci con una persona canadese, soprattutto se è il tuo compagno, quei giorni invece è come se fossero zero. Quindi io avrei potuto fare la domanda di cittadinanza molto prima, vabbè, non molto prima però, un po' più prima, forse qualche mese prima, ecco. Però vabbè, non importa. Il processo di cittadinanza è stato molto veloce, sono stata sorpresa, perché io ho fatto la domanda a novembre, a novembre mi hanno scritto che hanno ricevuto la mia domanda, che stanno trattando bla bla bla, ad aprile ho ricevuto la convocazione per fare il test, perché sì, per diventare cittadini devi fare un test di storia. Quindi loro ti convocano per il test, ti mandano un libricino di tipo sessantina di pagine da studiare, poi tu fai un test di venti domande, hai tipo mezz'oretta per farla, e devi farne... 15 mi sa, o 12, non mi ricordo, non mi ricordo quante dovevi fare nei rifiuti, foste 12, non mi ricordo, vabbè, insomma, non mi ricordo perché io ne ho fatte 20 su 20. Quindi ho studiato una settimana e mezza circa, ho fatto dei test, dei mock test, un po' come la patente, ho fatto dei test perché è un test a crocette, cioè non a crocette, a scelta multipla. Per quanto il Canada abbia pochissima storia rispetto magari alla storia dell'Italia o comunque tanti altri paesi in Europa, c'erano veramente tantissimi dettagli, tantissimi anni, tantissimi nomi, tantissime cose, e avevo veramente tanta paura per questo test, perché io, se c'è una cosa nella vita che sono sempre stata pessima, sono proprio i test con la scelta multipla, i crocette, queste robe qua, che per tanta gente magari è facile, per me invece mi mette più confusione, datemi una domanda aperta, facciamo prima, ecco top. Il test alla fine è andato bene, l'ho completato tipo nel giro di due minuti, ho fatto 20 su 20 perché ti dicono subito se l'hai passato e poi però devono verificare perché siccome tu lo fai online, hai la fotocamera accesa tutto il tempo, loro devono verificare che non hai imbrogliato, bla 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 bla. Quindi questo è stato aprile, ho fatto il test il giorno di compleanno di mio papà, era il 20 di aprile, ho fatto sto test, ci ho messo due minuti, l'ho passato subito, e ho avuto la convocazione per la cittadinanza a luglio, a luglio del 2023, quindi qualche settimana fa, quindi ho fatto la convocazione dove ci fanno tagliare la carta di residenza permanente, quindi una volta che tu diventi cittadino, hai bisogno di un documento canadese per entrare in Canada, c'è anche una specie di permesso che puoi fare prima di entrare in Canada, però ecco, è meglio se hai il passaporto, ecco facciamo prima. Quindi ho fatto sta cerimonia, che è durata troppo perché era online, quindi la gente non stava su mute, cioè dopo tre anni di pandemia, regà, non abbiamo ancora imparato a stare su mute, vabbè, non importa. Quindi ho fatto sta cerimonia, cioè cerimonia, che è durata tipo tre ore, terribile. abbiamo cantato l'inno nazionale, assolutamente sì, e no, non è Let's Go to the Mall, a quanto pare. Poi abbiamo fatto il giuramento, l'Oat of Citizenship, dove fai il giuramento alla patria, al re, adesso c'è il re, ovviamente non c'è più la regina, e niente, quindi alla fine di tutto ciò ci hanno detto, bravi, siete diventati cittadini, e poi ti dicono che puoi andare a ritirare il tuo certificato di cittadinanza, che oltretutto è tipo super fancy, è super bello da vedere, sembra una laurea praticamente, è bellissimo, e con quello fai il passaporto. Io andrò a fare il mio passaporto tra qualche giorno, non ho piani quest'estate, quindi nel senso quando sarà questo passaporto, però solitamente non dovrebbero metterci tanto, è proprio per l'appuntamento che ci ho messo tanto, perché se avessi saputo già la data in cui avrei recuperato il mio passaporto, il mio certificato di cittadinanza, avrei potuto prendere l'appuntamento molto prima, però vabbè è andata così, non importa. In più io dal 21 al 28 di luglio sono stata in vacanza, quindi non avrei potuto comunque andare in quei giorni lì. L'unica pecca è che devo andare fino a Quebec per farmi sto passaporto, perché a Montreal è tutto pieno fino a settembre, io comunque sto passaporto lo voglio avere, just in case, per averlo, essere tranquilla e andare avanti con la mia vita. Quindi niente, finalmente cittadina raga, come detto ci ho messo solo 8 anni, quella italiana l'ho ottenuta in 15 anni, quindi non mi posso assolutamente lamentare, però la cosa divertente di quando fai il passaporto canadese, cioè questa cosa mi ha ucciso veramente tantissimo, è il fatto che quando fai il passaporto hai bisogno di tre persone. Una persona deve essere per forza canadese, devi dare il suo numero di passaporto, tutti i suoi dettagli, eccetera, e si chiama il répondant in francese, quindi è un po' quella persona che chiameranno per dire ma questa persona esiste davvero, è davvero buona. Cioè nel senso mi fa molto ridere perché letteralmente il governo canadese conosce più cose di me che io stessa, di me stessa, perché hai tutti i miei cazzo di dettagli, in otto anni di immigrazione, tra visti, tra permesso di, tra per il, tra tutte queste cose, sai tutto di me, sai tutto di me, cioè ovvio che esisto, purtroppo pago le tasse, purtroppo, quindi hai bisogno di una persona canadese, poi hai bisogno di due persone, che sono delle reference, che non per forza devono essere canadesi, ma che devono essere persone che ti conoscono da almeno due anni, devono lasciare il loro recapito telefonico, il loro email, bla bla bla, e loro potrebbero chiamare per dire ma questa persona è affidabile veramente, e tante altre cose simili, però vabbè, per fortuna conosco tante persone, per quanto io sia una persona introversa, e bla bla bla, ho comunque fatto tanta amicizia, cioè prima di tutto ho un sacco di amiche, e ho un sacco di colleghi, quindi due dei miei colleghi sono state reference, e una mia amica ha fatto la respondent e tutto. Quindi niente, sono molto contenta, adesso avrò tre cittadinanze, posso averle, sì per chi si fa questa domanda, posso assolutamente avere tre cittadinanze, basta controllare con il paese della tua cittadinanza, per esempio la Moldava non se ne frega niente, se hai più cittadinanze, l'importante è che tu non puoi avere la cittadinanza ucraina, se hai quella Moldava, poi l'Italia se ne frega, ne sbatte niente, e il Canada non puoi avere, forse quella statunitense, cioè non puoi avere Canada, da Stati Uniti, una cosa del genere, non mi ricordo, ma so che c'era un po' un limite, un limite che non mi riguardava, ecco, quindi sì, ho tre cittadinanze adesso, tre cittadinanze, tre lauree, eccomi, perfetta, jobless. Quindi niente, sono molto contenta di essere arrivata a questo punto, perché da una parte, io nel 2020 volevo lasciare il Canada, trasferirmi in Europa, e diciamo che questo pensiero comunque esiste ancora, ma sono molto contenta di essere rimasta, rimasta per colpa della pandemia principalmente, non perché io l'abbia voluto, sono rimasta perché in realtà la cittadinanza canadese è sempre una cosa utile, perché comunque, lo sapete, io ho comprato casa qui, quindi ok, sono sposata con un canadese, tutto quel che volete, ero residente permanente, residente permanente, comunque c'hai tutti i tuoi diritti, però comunque secondo me cittadina è tutto un altro discorso, quindi in realtà sono molto contenta, se tornerò in Europa sicuramente la cittadinanza canadese non mi servirà niente, ma se un giorno decido di ritornare in Canada, o se un giorno decido di avere figli, i miei figli possono avere anche la cittadinanza canadese, immaginatevi che cool i miei figli, conosco 5 lingue, 3 cittadinanze, cioè sarebbero i figli più forti del mondo se non vivessimo nella crisi climatica, sì, sì, decisamente. Quindi niente, questo è stato un po' il percorso di cittadinanza, sono sicura che tantissime cose sono cambiate ultimamente in questi ultimi anni, di cui io non sono un'esperta perché non mi informo, ma ho una mia amica che si occupa tantissimo di queste cose, io vi lascio il suo canale qua in descrizione, Antea, lei fa bellissimi ti talk sul Canada, parla un sacco del Canada, lei è una grandissima esperta di tutti i cambiamenti che avvengono nella burocrazia, quindi se per caso siete interessati al Canada, come venire, eccetera, io vi mando il suo contatto, lei proprio si occupa di questo come lavoro, quindi contattate lei assolutamente, perché io appunto non mi occupo di migrazione, non mi occupo, non so neanche tutti i cambiamenti che sono avvenuti nella burocrazia, cioè ormai basta, non mi interessa più, però sicuramente sono stata avvantaggiata perché sono arrivata come studente, quello poco ma sicuro, se si arriva come studente poi, diciamo che la porta è un po' più spalancata, rispetto a qualcuno che arriva qua, col permesso di lavoro, oppure che deve essere sponsorizzato, insomma è molto più complicato, e niente, quindi sono molto felice di ciò, un altro capitolo è chiuso, sono molto contenta, e niente, quindi volevo fare questo video, dovevo essere sulla residenza permanente, ma è diventato un video sulla cittadinanza, se avete domande fatemelo sapere, e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!